Il sindaco di Salerno rassegni le dimissioni per ridare serenità alla città. Così Leonardo Gallo, esponente del gruppo Oltre Consigliere Comunale uscente, motiva la sua petizione online lanciata attraverso la piattaforma change.org. Gallo si rivolge ai cittadini, ai salernitani che hanno a cuore l'esorti della propria città e lo fa scrivendo un lungo post a commento proprio della petizione per spiegare i motivi che lo hanno indotto a lanciarla. Proprio Gallo, tra l'altro, insieme al deputato Tofalo e dal consigliere comunale Celano diffusi attraverso i social il file audio che ha portato la procura di Salerno ad emettere due nuove ordinanze di misure cautelari nei confronti dell'ex presidente della cooperativa San Matteo e di un suo collaboratore. Solo le dimissioni del sindaco possono dare serenità a questa città che è confusa, che è sconvolta. D'altra parte, io attraverso la piattaforma di change.org ho chiesto che i cittadini dicono al sindaco che non va bene in questo modo qua, non può avere la serenità di gestire una città con una purtroppo azzoppata credibilità pubblica che il primo cittadino in questo momento ha. Lo facesse prima che poi ci arrivino degli atti ufficiali magari del governo perché io credo che si stia scoperchiando un vaso di Pandoro. D'altra parte, se il sindaco ha fiducia nella magistratura, sta dicendo che ha fiducia in chi l'ha messo sotto indagine, di un giudice, un GIP che ha avallato quelle indagini a meno che lui non voglia avere fiducia solo di chi dovesse assolverlo. Ma questo non ci tocca, non mi interessa. Non è un problema adesso di assoluzione di inchieste penali, è un problema che riguarda semplicemente l'azione di governo. Inoltre, devo aggiungere, peccato che non si sia fidato di chi come me gliel'ha detto negli anni che c'erano problemi, abbiamo dato soluzione, abbiamo provato a dire di accorpare ad esempio il verde e soprattutto sugli scambi elettorali. Perché dire di quell'audio che si tratta di un fake? Perché il suo comitato addirittura ha minacciato chi è che lo ha reso evidente dicendo che si trattasse di un fake? Al contrario, altro che fake, ci sono gli arresti. Ecco, quantomeno il sindaco, se non ha dirette responsabilità, ha dimostrato di non essere capace, avere un'incapacità, a comprendere da chi è circondato. Come può fare il sindaco una persona che si trova in queste condizioni? Grazie. Grazie.